Per sua moglie? Sì, per mia moglie, sì, sì. San Valentino non si può mancare. Quindi c'è ancora romanticismo? Eh, un po' sì, certo. Queste ricorrenze sono un po' inevitabili. Ma le donne se le aspettano? Sì, assolutamente, certo. Classici fiori? Sì, fiori, per quest'anno sì. Che cosa? Tulipani, decisamente. È il fiore preferito. Allora il romanticismo c'è ancora? C'è ancora, mi piace. Alla mia fidanzata piace il romanticismo. Che ci sono ancora degli innamorati per fortuna. Per fortuna vostra. Per fortuna nostra, per fortuna anche di tutti, per quelli che sono innamorati. Perché essere innamorati è bellissimo. La classica rosa? Sempre. Rossa e gialla. Rossa per l'amore, gialla per la gelosia. Il minimo si parte dalla dozzina. Poi ci sono gli amici. Insomma, quelli che amano mostrare, tra virgolette, quanto amore hanno da dare. Nel senso. E oggi è successo qualcuna? C'è uscire uno. Era uno solo, quello lì. Quello era uno solo? Era uno solo. Un solo grande amatore. Di mani, le provociano, cause altro. Tagliściati, paesalo adesso. Ma cosa. Ja... W Ma cosa. Ma.